ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere i dati dell'agicom riguardati il terzo trimestre del 2021 quindi sino a settembre 2021 in attesa poi tra qualche mese di avere quello di chiusura anno andremo a vedere tutti i dati degli operatori mobili chi cresce chi scende le portabilità e la descrizione anche sugli operatori virtuali li andremo a vedere in questo video tra poco ricordando che questi dati vengono paragonati allo stesso periodo quindi a settembre in questo caso del 2020 ma andiamo a vedere direttamente il primo dato da il totale delle sim quindi di tutte le sim sia human che quelle utilizzate per qualsiasi altro tipo di utilizzo quindi le sim emesse dagli operatori mobili abbiamo questo primo dato il confronto è con settembre del 2020 vediamo che team è ancora leader con il 28,8 per cento e perde lo 0,2 poi abbiamo vodafone con il 28,5 che perde 0,5 wind 3 24,8 perde 1,3 iliad più 1,1 si trova una quota di 7,7 poi abbiamo poste mobile più 0,1 con 4,3 per cento altri mv e n o gli altri operatori virtuali a non più più scusate più 0,8 con una quota di 5,9 questo riguardo tutte le sim totali ma andiamo a vedere a quelle consumer quindi quelle human eccoci al dato delle sim human ossia quelle usate ovviamente per gli smartphone e apparecchi simili quindi sia business che invece anche residenziali vediamo che ancora è prima in classifica per quota di mercato wind 3 con il 26,8 per cento che perde in confronto al settembre dell'anno precedente meno 1,4 al secondo posto abbiamo team con il 25,7 perde il 0,8 perde sempre anche vodafone 0,8 ma una quota di mercato di 23,3 iliad sale di più 1,7 e prende una quota di mercato di 10,5 poste mobile più 0,2 5,7 in totale gli altri operatori virtuali più 1,1 con una quota di mercato di 8,8 punto 0 riguardo alle quote di mercato invece delle sim residenziali sempre per lo stesso periodo vediamo sempre wind 3 con il 27,5 per cento del delle quote di mercato perde 1,6 team 23,8 perde 1,2 vodafone 21,6 perde 0,8 iliad aumenta del 2 per cento e si trova una quota di mercato di mercato di 12 per cento poste mobili invece abbiamo più 0,3 quindi guadagna anche poste mobile e ha una quota di mercato di 6,2 gli altri operatori virtuali hanno guadagnato più 1,3 e si trovano una quota di mercato di 8,8 adesso vediamo i dati delle portabilità in entrata e in uscita sempre riferite allo stesso periodo di prima abbiamo wind 3 con in uscita il 23,5 in entrata il 17,3 c'è una grossa forbice di differenza quindi maggiore sono le uscite in confronto all'entrata in portabilità team ha invece in uscita il 19,5 e in entrata il 16,3 vodafone in uscita 22,9 in entrata 18 precisi iliad invece in uscita 10,3 in entrata il 18,3 gli altri operatori virtuali in uscita 23,7 in entrata il 30,1 questo è sulla quota globale delle portabilità in italia queste percentuali avendo visto i dati devo ancora una volta indicarvi che sia team che vodafone che wind 3 tengono conto di in questi dati anche dei loro operatori virtuali quindi o mobile che era mobile e veri mobile non li separano quindi sono dei dati secondo me non attendibili sono i dati dell'agicom però vengono considerate in totale anche le loro sim dei operatori virtuali quindi se avessimo purtroppo non ce l'abbiamo a disposizione i dati dei loro operatori virtuali quelli di marchio del loro marchio appartenenti al marchio principale quindi all'operatore fisico sicuramente avremo dei dati differenti purtroppo questo è quello che abbiamo a disposizione da parte dell'agicom io vi ringrazio per l'attenzione vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video sono reperibile tramite instagram l'indirizzo mail link e il numero whatsapp che trovate giù in descrizione se volete passare ad un mobile c'è il mio referral link che vi dà la possibilità dopo il primo mese quindi alla prima ricarica di avere riconosciuti 5 euro di ricarica omaggio se volete fare acquisti su amazon e supportare il canale in modo più semplice appunto cliccare sul mio referral link giù in descrizione farete i vostri acquisti normalmente su amazon senza avere senza spendere un solo centesimo in più io vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video un abbraccio e un saluto da giuseppe ciao Grazie a tutti.